Un giorno Vittorio, ben trovato al nostro caffè del mattino. Caro Francesco, rieccoci. Allora, io stamattina avrei voglia di parlare con te di un tema che, come dire, è enorme, ma che al tempo stesso ti dico subito di cosa vorrei parlare e ti spiego perché ne voglio parlare. Il tema è l'anima. E la ragione per la quale io voglio porti questo tema, e quindi di che cos'è l'anima dal punto di vista di un neuroscienziato, è perché molto spesso accade che le persone pensino o sostengano a volte, anche in maniera polemica, che l'oggetto della psicoterapia, della psichiatria, della psicologia, sia l'anima. Cioè che noi ci occupiamo dell'anima. Ecco, io ti ho spiegato la ragione per cui ti ho chiesto di parlarne dal punto di vista delle neuroscienze perché, come dire, è un tema che ha anche delle connotazioni, diciamo così, filosofiche, che spesso portano anche a dei conflitti. Tengo a precisarlo, perché chi sostiene che ci occupiamo di un'anima sottintende che non dobbiamo dare farmaci, tanto per essere chiari, perché poi questa è la cosa che viene sottintesa. Allora, provo a chiedere al mio amico neuroscienziato che cos'è l'anima dal punto di vista suo, di neuroscienziato. Bene, devo dire che nel corso degli anni mi sono sentito a rivolgere le domande più diverse, ma a te spetta la palma di avermi sollecitato su questo tema specifico. Ecco, un parere sull'anima come neuroscienziato non me l'aveva mai chiesto nessuno. Allora, la prima risposta da dare a una domanda di questo genere per quello che mi riguarda è che io sono un materialista. Sono un materialista e quindi credo che noi siamo corpi. Siamo corpi che si sono adattati nel corso dell'evoluzione della vita sul nostro pianeta in un particolare ambiente e dalla relazione tra questo corpo che via via cercava di adattarsi e questo ambiente che è cambiato per cause naturali, ma poi via via sempre di più per mano nostra, cioè per mano dell'uomo, abbiamo trovato una sintesi che è in costante evoluzione e che noi chiamiamo vita, esistenza, eccetera. Quando parliamo di anima, da un punto di vista neuroscientifico direi che il problema è risolto all'inizio, cioè potrei dirti che ho cercato l'anima nel cervello degli animali che ho studiato senza mai trovarla, ma non è nemmeno vero perché non l'ho nemmeno cercata. Ecco, quindi fatta questa premessa, diciamo così, materialistica, questo non significa che un materialista come me non riconosca la presenza di un qualche cosa che non saprei come definire se non come il mistero, l'insondabile, l'indicibile, l'invisibile, che però saltuariamente l'essere umano riesce a rendere visibile, udibile, percepibile. A che cosa mi riferisco? Mi riferisco a quelle dimensioni più segrete, se vuoi, o meno automaticamente evidenti rispetto al nostro incontro con il mondo e uno degli strumenti principali che rende saltuariamente il possibile emergere da questo fondo di mistero questi elementi è l'arte. Quindi quello che dal mio punto di vista neuroscientifico si avvicina di più a quello di cui parliamo quando parliamo di anima è quella capacità totalmente materiale dell'uomo di in qualche modo far capire che il mondo non è necessariamente come ci appare, ci sono delle dimensioni nascoste che solo alcuni privilegiati tra gli esseri umani intuiscono e che con particolari tecniche riescono a rendere evidenti a tutti gli altri, o almeno a coloro che si vogliono sintonizzare su questa lunghezza d'onda. Quindi diciamo anima come residuo del non detto o del non visto. E c'è tanto di non detto e di non visto, proprio perché la nostra presenza nel mondo è in qualche modo enigmatica, per usare un termine heideggeriano, noi ci ritroviamo gettati in questa esistenza e abbiamo evoluto degli strumenti come il linguaggio metacognitivi, cioè che ci permettono di riflettere sulle nostre esperienze, quindi rispetto agli animali che hanno esperienze noi abbiamo una coscienza riflessiva che è in grado di mettere sotto la lente di ingrandimento l'esperienza che noi facciamo del mondo. E questo non può che fare scaturire degli interrogativi che credo in gran parte resteranno senza risposta. La scienza è un tentativo, io la scienza l'ho sempre vista come un gioco, ho sempre privilegiato questa dimensione giocosa della scienza. La scienza è il gioco più bello che gli umani si siano inventati proprio con lo scopo di dare una risposta il più solida possibile a questi interrogativi che ci portiamo tutti appresso. Mi fermerei qua per il momento. Sì, io credo che ci sia un'osservazione da fare che mi ha molto colpito è che in qualche maniera tu hai individuato nella creatività un'evoluzione, diciamo, delle funzioni cerebrali che è difficile da catalogare. Tu l'hai fatta entrare dentro il mistero, so ben capito. Cioè, di fronte alla creatività, come tu hai detto, non ho, come dire, rilievi da poter dire che qualcuno dei miei colleghi o io sono andato a stimolare con gli elettroni l'anima. Quindi tu hai detto che dal tuo punto di vista l'anima non sai cos'è. Però al tempo stesso hai anche detto che c'è un mistero insondabile rispetto invece alla creatività umana. Anche lì mi sembra di capire che non hai risposte come neuroscienziato. Beh, diciamo, c'è chi la creatività la studia, non è il mio caso, e quindi è un ambito di cui anche questo non mi sono mai occupato. Mi sono sempre occupato di un ristretto tema che è quello della socialità, della relazione, della comprensione reciproca. E quindi occupandomi di intelligenza sociale mi sono occupato poi anche di alcune sue espressioni tipicamente umane, quali l'estetica, l'arte, il cinema, la letteratura, eccetera, eccetera. La creatività è la capacità di ottenere 5 sommando 2 più 2. Anche qui esiste l'area della creatività. Io da ignorante, non essendo mai occupato, mi permetto di dire, ne dubito, diciamo, anche perché il cervello è un sistema dinamico. È un sistema dinamico che quindi, diciamo, va incontro a delle continue oscillazioni. E quindi, se uno proprio volesse fare il riduzionista a tutti i costi, il momento di Eureka lo puoi vedere come la coincidenza miracolosa di uno stato particolare di attivazione dei rapporti tra le varie frequenze con cui oscillano i neuroni del tuo cervello che ti porta a una conclusione, a un'immagine, a una frase, a un concetto o addirittura immaginare un oggetto che ancora non esiste e noi lo chiamiamo creatività. Credo che nella creatività giochi molto anche il caso, come del resto il caso gioca un ruolo fondamentale anche nel progresso scientifico. Non ci sono dubbi. Vedi, Vittorio, io credo che sia però importante averne parlato sia, diciamo, dell'anima sia della creatività perché, come dire, porsi il problema e farsi delle domande in questo ambito è corretto, è giusto, ma al tempo stesso… Certo. Diciamo che ti devo ancora una risposta, effettivamente, perché tu, quando dicevi, se parliamo di anima, curare il disagio psichico, la cosiddetta malattia mentale non può avere a che fare con la materialità e quindi con il cervello. Questa è un'enorme sciocchezza, lasciamelo dire. Diciamo, l'anima o quello che chiamiamo anima, i sentimenti, l'espressione, l'esperienza, secondo me, è la parola più agevole da usare in questi contesti, è chiaro che in qualche modo emerge da lì, non può che emergere dal nostro corpo e in questo corpo da cui emerge l'esperienza il cervello gioca un ruolo fondamentale, che ovviamente non significa necessariamente dire che possiamo curare il corpo solo ed esclusivamente agendo sul corpo, ad esempio riconfigurando il mix di neurotrasmettitori nel nostro cervello. Sicuramente può essere necessario, utilissimo farlo, ma quello stesso cervello che produce il linguaggio è sensibile al linguaggio e quindi la parola, almeno al pari della molecola farmacologica, ha la possibilità di accedere all'esperienza del paziente in un dialogo che va costruito giorno per giorno, riconfigurare quell'esperienza, quindi è una falsa dicotomia. Sono assolutamente d'accordo, infatti voglio dire si parla sempre di terapie integrate nella misura in cui da un lato c'è sicuramente la possibilità di usare delle molecole che hanno delle azioni chimiche sul cervello, ma al tempo stesso non dobbiamo dimenticarci che ci sono fior di studi proprio di neuroscienze che dimostrano quanto la parola possa modificare anche plasticamente il cervello e le interazioni tra i neuroni. Quindi come tale credo che sia giusto evitare di fare gli orazzi e i curiazzi in questi casi, il cervello è troppo complicato per ridurlo ad una lotta tra due entità, la terapia della parola e la terapia farmacologica che in realtà probabilmente debbano andare d'accordo perché agiscono a livelli diversi, ma spesso possono anche funzionare. Certo, e poi soprattutto agiscono sullo stesso substratto. Esatto, esatto. Grazie Vittorio, alla prossima! Alla prossima, ciao Francesco! Ciao, ciao!